A livello europeo è importante anche la Fondazione Fadoi, vediamo perché. Il ruolo della fondazione? La fondazione è il braccio operativo della società scientifica che comprende quella che è la parte vitale della società, quindi il Dipartimento di Formazione e il Dipartimento di Ricerca. Questo perché? Perché nella mission della nostra società scientifica, il fatto di avere un Dipartimento di Ricerca serve per cercare di dare delle risposte a quelli che sono i bisogni insoddisfatti della medicina interna, che sono tanti, sulla base della ricerca fatta su questi bisogni insoddisfatti, elaborare la formazione, questo ovviamente è nell'ottica di cercare di dare la miglior cura possibile ai nostri pazienti e quindi la fondazione attraverso queste due anime comprende quello che poi è l'attività scientifica, culturale di formazione da parte della società. A livello europeo c'è una normativa che è sempre in evoluzione, Qual è il ruolo di Fadoi? Noi facciamo parte della società europea di medicina interna, attraverso sia il presidente della fondazione sia attraverso dei delegati nell'ambito della società europea e per quanto riguarda la ricerca, cioè quella che è la normativa europea che è in fase ancora di sviluppo, non è ancora stata approvata, sicuramente Fadoi ha un ruolo importante in quanto è stata propositiva anche in alcune modifiche di quello che può essere il regolamento e anche attraverso quelli che sono i congressi, siamo alla quinta edizione dei congressi sulla ricerca. Avvocato Agostino Migone di Amicis, con quali regole fare ricerca clinica in Italia nel 2020? Il 2020 è dietro la porta, anche se l'abbiamo sempre associato a un orizzonte, quindi è molto difficile fare delle previsioni, poi di questi tempi previsioni è meglio non farne mai. Cerchiamo di capire innanzitutto che cosa oggi c'è e forse nel 2020 sarebbe meglio non ci fosse più. Cerchiamo anche di capire quali particolarità, in particolare per la ricerca indipendente, che è quella di cui noi ci occupiamo qua oggi, sarebbe bene che ci fosse nel 2020. Grazie.